Bentornati nel Canada Project, siamo qui con Flaminio, il best Rossi. Cosa hai portato al nazionale? Ho detto Snake Eye Cash, ho fatto top 16, top 16 perdendo una cantrata. Shout out, l'energia acqua, la best. Non ne parliamo, comunque il mazzo ha performato bene. La lista dove ho giocato io e Rimo la stessa lista, poi Rimo non è entrato a farsi nulla. Ok, ok. E come hai chiuso tu invece? Ho chiuso X1-2 e partendo male, però dopo l'ho vinto tutto. Ok, passiamo alla lista? Sì. Snake Eye Cash, 3 Bonfer, 3 Diab, 3 Wanted e 2 Poplar. Le One Car Combo Classiche non gioca 1 for 1 perché giocavamo delle partenze in più e giocavamo anche Cash. E giocavamo dei Board Breaker, quindi 1 for 1 a volte è morta. E questo è un scandalo. Il secondo me che ha mappato abbastanza spesso, poi facciamo 38. La cosa migliore che puoi fare è con meno carte possibili sotto l'HT e fai molto facilmente. Original Queste e Queste sono standard, questi sono tutti extended. Queste sono un paio da pescare ma se tu peschi una di queste tre, con Diabella sarà la cuba più forte. Se te la fanno risolvere. Ok. Quindi, poi per i Cash trovavamo 3 Mostri, Mono Terreno, Mono Terraforming e Burt. Questa per cadda anche la Terreno Snake Eye. E due Fenrir è perché per i Seed Inside Out poi, o Seconde ne avevamo sempre un Ricorne e Burt. E poi se non avevi il secondo Fenrir non avevi da dare di Fenrir. Di conseguenza questi li tenevamo perché si lavoravano bene con Droplet, Time, tutte le carte che giocavamo. Quindi, dunque è stato forte per me. Poi per i Flex, 3 Ash, 3 Perma e Ogre sono le uniche HT, che vogliamo giocare anche Droplet e Talent. Che ci sembravano forti, visto che ci aspettavamo molti mazzi diversi, a parte Snake Eye. Queste erano le più versatili e in combinazione sono forti anche con Droplet. Tipo, questa più Droplet per questa e cerca tutta la board, c'è tocca di Mascherane e questa fa insomma se vengono. C'ho vinto così, continuo a Snack Eye Go Second. Ok. E vabbè questa... Go Second di Miromech, a volte la di Seed Inside però, il problema è che è troppo forte contro Brand, The Labyrinth, e ho troppi mazzi alla Nazione Italiana che li becchi, gli skip Erdic. E... Le ultime carte di mazzi erano due Prosperity. Facciamo una tecce... L'avevo detto a Rimo di giocare Prosperity perché secondo me è una carta comissima. E può essere sia un flex che una partenza in più. E mi ha fatto vincere due partite perché non avevo partenza, ho pescato Prosperity. Quelle coperti spazio sarebbe che ero grittata infatti. Ok. E non è un problema bannarsi le carte, anche contro la Brin ci ho vinto perché puoi rivelare Storm, Ash, qualche carte troppo importante, Droplet. E... Sono roba in più di Diabelle, Star di Ash, di Bonfer, dei Cache. e puoi bannare tranquillamente anche se hai carte, non è un problema. Ok. E sono 41 di main. Bene. Passiamo con l'extra? Sì. Intanto... Passiamo a Mario. Ruff, 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 ruff. Ruff, ruff. Vabbè. Dragosack. L'ho calato contro voice nessuna volta rubando un livello secco. Sì. 38. Questo l'ho calato un sacco di volte. Anche con second. Baratto. Fuori testa. Anima. Dark. Vita. Finisce. Vabbè, questo è standard. Questo è standard. L'ho calato evocate tutte. Anche Goddess. Ok. L'ho evocato tutto l'extra. Drago sa che la carte ha evocato di meno, però... L'ho evocato tutto l'extra. Vale. Extra standard. Sì, sì. Per forma bene. Qualcuno gioca Link Spider, quasi così, ma se facciamo solo Ash, non facciamo la linea così di Diab, quindi io ci serve Link Spider. Sì. Beh. Questa è troppo forte a risolvere molte situazioni. Questa è un paio di check a... scacco matto. Ok. Passiamo con la side. Questa è sempre un trucco, che è forte l'astro di Liovio. Poi due Storm. E... Sedevamo anche contro Mirror Match per Skip Grain. Mal che vada le via con l'USA. Dunque in combinazione con Droplet è fortissimo, quindi... Sì. La rivela di Prosperity Plus contro Stan. Polled. Può anche stare a giocare la D-Main, però contro la D-Mash Up o 2-6 non fa schifo, quindi... Vabbè, andando primo sempre contro Branded sempre. Tre take. Contro Mirror Match. Poi tre Eclipse. Erano contro Melodius. E contro Tempai andando primo non giocano Skill Drain. Non ci piace Skill Drain, va sotto Storm e cose così. Questa... Si va sotto Storm ma se mi fanno fermo posso fare questa per giocare. Mentre Skill Drain passo. Ok. E... E... Questa qua inoltre cerca anche più Willy se qualcuno lo girava. Ho beccato in top e ho vinto. Ma non di questa perchè si abbia preso Ascio che sta bene. No! No! Questa carta qua. Egh! Questa... Era, diciamo, una carta per rispettare più Branded. E altri match up tipo comunque la sede anche contro Labyrinth. E... Sembrava meglio questa Rebel perchè appunto contro Branded è molto più forte che questa Rebel. E ha fatto il suo dovere. E vabbè, sì. Quanto più li sovecchia meglio. Tanto contro Melodius se non la sedevamo Bell perchè solo Aitor mi disse forse solo Sustinato. Ok. Con questo Sustinato è un fail. L'ultimitore card è Metal Tronus che se non le giochi con me non c'è nemmeno parlare. Oh no! You're broken. Questa... Sbroccatissima. Sbroccatissima questa carta. Vabbè. Bene. Passiamo agli Shoutout. Ci vogliamo ringraziare. Gli Shoutout, gli sponsor. Quindi Cargaint Lab, quelli Actable Station, Thunder King Games e Hunter Games. Poi tutti i ragazzi del team. Ehm... Quindi tutti quelli che hanno anche a Nazionale. Quindi Rico, Ferra, Rimo. Ehm... Poi anche Jacopo, Billy. Che... Ringraziamo anche Girgenti. Girgenti. Danna. Ehm... Shoutout ai judge della top. No! Oh no! Ehm... Niente dai. Bene. Ci vediamo all'Euro. Ci vediamo all'Euro. Perfetto. Ciao a tutti! Ciao a tutti!